Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Maxi operazione del corpo forestale dello Stato sequestrate 10 tonnellate di rifiuti e materiale ferroso denunciato il titolare di una ditta di Monte Porzio In fuga dopo l'alta dei carabinieri scatta l'inseguimento nella notte per le vie di Fano VIP contro prefetti nazionali di calcio pronti a sfidarsi al Mancini per una causa benefica Buonasera cari telespettatori benvenuti a Occhio alla Notizia il corpo forestale dello Stato ha sequestrato 10.000 kg di rifiuti denunciato due persone che ora rischiano fino a 8 anni di reclusione trovati anche residui di ferro e materiali pericolosi vediamo tutti i particolari della vicenda nel servizio di Simona Zonghetti Oltre 10 tonnellate di materiale ferroso e rifiuti pericolosi tra cui i cavi di rame per un valore complessivo di oltre 10.000 euro sono stati ritrovati in provincia di Pesaro Urbino dai nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale L'operazione portata a termine rientra nell'ambito di una campagna regionale che ha coinvolto oltre 30 forestali in tutte le marche e ha previsto il controllo di 9 commercianti di rottami e 4 trasportatori Il sequestro è stato condotto dal comando provinciale di Pesaro del Corpo Forestale dello Stato assieme al personale delle stazioni di Cartoceto, Carpegna e Piobbico Colto in flagranza di reato un cittadino marocchino mentre scaricava abusivamente rottami provenienti da autoveicoli in una ditta di raccolta e gestione di rifiuti ferrosi a Monteporzio Sequestrato il furgone utilizzato per le attività illecite è denunciato anche il titolare della ditta nella quale sono stati rinvenuti 1500 kg di cavi di rame parti di motori ed elettrodomestici ma anche acciaio e 500 kg di ottone, tutti di provenienza sconosciuta I reati contestati ai due soggetti che hanno agito in concorso vanno dalla ricettazione alla gestione di trasporto di rifiuti con pene che prevedono fino a 8 anni di reclusione L'indagine diretta da Manfredi Palumbo procuratore capo del Tribunale di Pesaro ha consentito di accertare gravi anomalie nella gestione di registri aziendali in particolare non veniva indicata la provenienza di materiali stoccati compreso rame, prezioso oro rosso impropriamente identificato come rifiuto ma in realtà pronto per essere messo sul mercato a prezzi molto elevati è scattata all'alba l'operazione Titano messa a punto dalla squadra mobile della questura di Rimini in corso 29 misure cautelari e circa 40 perquisizioni per droga, armi e altri reati arresti anche a Milano, Agrigento, Pesaro e Dancona circa 100 gli agenti impegnati con unità cinofile ed un elicottero della polizia tra gli indagati anche i titolari di un noto locale del lungomare di Rimini l'operazione è concentrata sullo spaccio in riviera e le presunte attività poco chiare di un noto locale notturno nei cui confronti potrebbero essere prese misure di chiusura i carabinieri di Fano invece stanno indacando sugli occupanti di un'auto che la scorsa notte non si è fermata all'alta dei militari in servizio in via Papiria in un primo momento il conducente ha rallentato alla vista della pattuglia come per volersi fermare al controllo poi invece si è dato alla fuga svoltando verso via 4 novembre i carabinieri si sono messi a loro inseguimento ma i fuggitivi dopo aver centrato le transenne pedonali che delimitano il piazzale della stazione hanno abbandonato il mezzo e si sono dileguati a piedi nel sottopasso ferroviario la vettura è stata sequestrata dagli uomini dell'arma della compagnia di Fano per i rilievi di legge ed ora parliamo della nostra costa, del nostro littorale questa mattina il sindaco Massimo Seri si è recato in Sassonia a controllare e vedere il ripasciamento di quel tratto di littorale vediamo com'è andata abbiamo fatto un intervento importante di ripascimento delle spiagge rovinate dal maltempo e dalle mareggiate dei mesi scorsi ed ora sono state rese fruibili ai bagnanti in vista della stagione estiva così il sindaco di Fano Massimo Seri che questa mattina si è recato sul litorale di Sassonia nel tratto che va dai bagni Sergio a Viale Ruggeri un sopralluogo effettuato insieme al geometra Bruno Agossinelli tecnico dell'ufficio porto e difesa della costa del comune se ritorniamo indietro con le immagini delle mareggiate qui non avevamo più spiaggia, non avevamo quasi più la strada e abbiamo fatto un intervento importante di ripascimento, di risistemazione e direi molto meglio degli anni precedenti si è allargata la spiaggia, sia questa qua libera ma anche le spiagge alle mie spalle degli stabilimenti questa è una risposta importante ma soprattutto ci tengo a sottolineare che nonostante i ritardi della regione che ci sono stati un po' per le elezioni i decreti e anche delle risorse sono arrivate in ritardo noi attraverso i nostri uffici siamo attrezzati prima in modo tale che appena è arrivato il decreto noi siamo diventati dal giorno dopo operativi poi ci sono state anche alcune giornate di pioggia che hanno un po' rallentato ma devo dire che rispetto anche agli altri comuni siamo molto più avanti gli altri stanno ancora lavorando quindi con piena soddisfazione è anche un modo di dimostrare che quando si programma e si lavora i risultati ci sono le professionalità all'interno delle nostre tour ci sono e quindi sono molto contento perché è una bella risposta sia per i cittadini che utilizzano queste spiagge ma anche per gli operatori che vedono che hanno l'amministrazione comunale veramente al loro fianco le operazioni per un costo complessivo di 40.000 euro più IVA sono state eseguite in sintonia con gli operatori balneari abbiamo portato oltre 9.000 metri cubi di materiale presi nella foccia del fiume Metauro e parte nella foccia dell'ardella nella sponda sinistra della foccia dell'ardella materiale ghiaioso che era compatibile con il materiale esistente precedentemente Il ripascimento è solo l'ultimo atto di un intervento complessivo che ha visto anche il ripristino della passeggiata Giovanni Paolo II danneggiate in alcuni tratti sempre dal maltempo Ci manca sempre una fila che abbiamo dovuto togliere per le mareggiate subite e l'erosione subite l'anno scorso aspettiamo le scogliere con ansia però diciamo che il lavoro che è stato fatto per affrontare l'estate è stato fatto bene Il lavoro è stato ultimato solamente in questo periodo proprio perché si è voluto scongiurare fino all'ultimo l'eventuale ripetersi di mareggiate che avrebbero potuto vanificare la posa in opera del ripascimento in tempo utile comunque per garantire a turisti e cittadini le condizioni ottimali per il periodo estivo d'accordo con il gestore dei bagni Sergio anche il titolare dello splash Sì, il ripascimento è stato fatto abbastanza consistente però tanto se il mare si ingrossa non gli fa niente questa cosa qua quindi bisogna fare il lavoro più importante che sono le scogliere Bene, perlomeno le attività economiche e commerciali di quella zona sono salvaguardate Allora, continuiamo a parlare di politica però un aspetto che è un po' sulla bocca di tutti in questo momento è il settimo assessore ad esprimersi su questa eventualità anche l'ex assessore al bilancio Alberto Santorelli sentiamo che cosa ci ha dichiarato Per regolare i loro conti di partito conti che non tornano dopo le elezioni regionali il PD di Fanno invece di governare la città sta utilizzando tutta la sua forza per imporre al sindaco Massimo Seri il settimo assessore e sistemare così gli appetiti di tante bocche da sfamare è il pensiero dei consiglieri di progetto Fanno Alberto Santorelli e Aramis Garbatini che consigliano al primo cittadino di destinare quelle risorse economiche ad altri settori che necessitano di interventi ben più importanti Ha detto che secondo lei il sindaco è ostaggio del PD per quale motivo? Perché il PD sta cercando di imporgli la nomina del settimo assessore in giunta quindi si è aperta una faida interna alla maggioranza dopo le elezioni regionali è chiaro a tutti ormai il litigio in corso tra il PD, il sindaco e la lista civica del sindaco questo è inaccettabile perché solo un anno di distanza dalla loro elezione è finito di dar la colpa agli altri e chi li ha preceduti rispetto alle impienze di questi mesi hanno incominciato una grossa lotta interna di potere diciamo di fronte invece a una città che va governata va amministrata e quindi il PD farebbe bene a sfruttare usare la propria forza per governare la città invece di imporre al sindaco delle scelte che non possono essere condivisibili 40.000 euro oggi per un altro assessore è uno schiaffo a tutte quelle risposte non date in questi mesi in cui dicevano e hanno detto che non c'erano soldi dalle manifestazioni estive al degrado della città al sociale, al turismo diciamo agli incentivi che potrebbero dare anche ai giovani in termini lavorativi quindi è una scelta che chiediamo al sindaco di non prendere quindi di liberarsi dall'essere ostaggio del Partito Democratico ricordando poi le varie tappe del giro del degrado intrapreso dal PD quando a governare Fanno era la giunta di centrodestra Santorelli ha preso l'esempio del tendone della tensostruttura strappato in zona Sassonia Garbatini invece si è soffermato sulle spiagge libere all'Arzilla che presentano fango, erbacce, detriti, buche e avvallamenti pericolosi i consiglieri chiedono quindi all'amministrazione di riattivarsi subito per risolvere questi problemi nel rispetto di cittadini, turisti e operatori economici e sempre a proposito di degrado guardate questa foto scattata ieri sera da un nostro reporter di strada proprio vicino al tendone di Sassonia di Fanno dall'immagine potete notare una decina di sacchetti dell'immondizia abbandonati sulla passeggiata è stato pubblicato il 4 giugno scorso nell'albo petrolio del comune online di Fanno un bando di gara per l'affidamento in concessione della gestione e manutenzione ordinaria del bastione del Sangallo il termine di presentazione delle domande è il 19 giugno prossimo entro le ore 12 sono ammesse alla partecipazione alla gara esclusivamente le associazioni culturali o ricreative iscritte all'albo comunale delle associazioni la convenzione avrà durata biennale con scadenza 30 ottobre 2017 educazione alla legalità e senso civico è l'obiettivo del mio diario il simbolo del progetto promosso dalla Polizia di Stato per sensibilizzare sul tema i giovani studenti l'agenda scolastica è stata consegnata stamattina anche in un istituto pesarese vediamo dopo lo straordinario successo delle scorse edizioni la Polizia di Stato in collaborazione con il ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca il ministero dell'economia e finanze ha rinnovato l'iniziativa di distribuzione del mio diario l'agenda scolastica è stata consegnata dagli agenti anche agli alunni dell'istituto comprensivo Gaudiano di Pesaro dopo la visita del prefetto Luigi Pizzi del questore Antonio Lauriola e di dirigenti e assessori comunali Pesaro Urbino è una delle questure scelte dal dipartimento della pubblica sicurezza per promuovere questo evento la consegna del mio diario e come dirigente della divisione anticrimine insieme ai miei collaboratori dell'ufficio minori ci siamo occupati con le scuole di organizzare questo evento questo diario che accompagnerà i ragazzi, i bambini degli elementari che dalla terza passano alla quarta e in più verrà distribuito anche ai figli dei dipendenti, dei poliziotti tutti i bambini che sono in età scolare per gli elementari per la scuola primaria il tema del diario è l'educazione alla legalità e al senso civico corredato di vignette che richiamano il corretto senso del dovere in collettività il diario affronta tematiche quali l'uso sicuro del web l'educazione alla circolazione stradale la lotta al razzismo e la tutela dell'infanzia offrendo spiegazioni adeguate ad un pubblico di bambini protagonisti grafici del progetto sono due supereroi vis e musa i quali accompagneranno gli studenti per l'intero prossimo anno scolastico stimolandoli alla riflessione insieme a docenti e genitori su temi fondamentali per la loro formazione e per la civile convivenza un momento importante perché nel diario i bambini possono prendere confidenza con le regole dalla Costituzione e a tutti i vari aspetti dell'attività della Polizia di Stato per avvicinare i ragazzi delle scuole a quella che chiamiamo educazione alla legalità e che promuoviamo soprattutto con le scuole pesaresi e con le scuole elementari si svolgerà mercoledì 10 giugno domani nel salone di casa Nazareth in via Mario Pagano 6 a Fano l'incontro mensile dell'associazione che promuove l'allattamento materno l'appuntamento è previsto per le ore 17 e 30 ed ora parliamo di sport, sport non agonistico uno sport naturalmente famosissimo come il calcio scenderanno in campo due nazionali, quella TV e quella Prefetti per un evento benefico, vediamo di che cosa si tratta scenderanno in campo con la solidarietà nel cuore per una vera festa dello sport incarnando i principi sani dello spirito di partecipazione il rispetto delle regole e il senso di appartenenza le due nazionali che si daranno battaglia a suon di gol nella culla del calcio fanese sì, mi sembra una bella conclusione di questo anno sportivo che è stata anche per me una bella esperienza e abbiamo deciso di unire al momento della partita che sarà venerdì 12 giugno e serale quindi dalle 8 e mezza in poi e vedrà sfidarsi la Nazionale Calcio Prefetti contro la Nazionale Calcio TV la Nazionale Prefettizi coordinati dalla Prefettura e dalla Questura di Pesaro ha ben radicati i principi ispiratori di questo evento e questo ha fatto sì che il guanto di sfida lanciato è stato raccolto con gioia lo spirito che anima questa Nazionale Prefettizi è ispirato principalmente a quelli che sono i principi fondanti della imparzialità, del rispetto delle regole dello spirito di servizio finalizzato al raggiungimento di un bene comune e quello dell'importante della solidarietà la Nazionale Calcio TV in 15 anni di attività vanta ben 4 milioni 280 mila euro raccolti per eventi benefici e in soccorso di quanti ne hanno avuto bisogno come i terremotati dell'Aquila molte le adesioni che stanno arrivando da parte dei giocatori della Nazionale Calcio TV per venire partendo da Luca Galtieri il mister Ma Perché? e Gian Paolo Fabrizio il Bruno Fespa di Striscia la Notizia Baz Bazzani Federico Stagà il Principe Cacca i Manico Sport che debutteranno direttamente nella Nazionale Calcio TV che arrivano da Zelig e molti altri nelle prossime ore uno spettacolo nello spettacolo sarà il Gabibo nazionale che durante l'evento non si risparmirà in simpatiche e divertenti interviste e interventi a sorpresa tutti in campo quindi e che vinca la solidarietà bene quindi le premesse sono sicuramente ottime per questa serata di venerdì ma noi in chiusura di telegiornale abbiamo una piccola sorpresa vi vogliamo regalare un cadeau abbiamo uno dei protagonisti al telefono di questa partita che si disputerà al Mancini è un comico conosciutissimo famosissimo Marco Bazzoni in arte Baz ma anche Gianni Ciano insomma un comico di punta che ci ha fatto divertire tantissimo e che sarà in campo anche venerdì allora Marco Bazzoni buonasera con collegamenti di un certo livello grazie mille intanto per avermi disturbato durante la mia vacanza ecco appena sentiti subito castigati va bene sì sì subito l'ha toccata ma volentieri perché venerdì vi aspettiamo allo stadio Mancini se non sbaglio per questa partita fantastica dove ci saranno un sacco di personaggi e i comici che normalmente li fanno ridere in pensione questa volta li faranno ridere sul campo ma involontariamente ecco noi abbiamo intervistato stamattina esponenti della parte avversa loro sono ben agguerriti ma ci temono un po' ecco sono dei magistrati dei prefetti quindi insomma bisogna andarci insomma con i piedi di piombo come si dice a seconda del fallo possono denunciarci questo vuol dire ecco va bene allora la lasciamo alla vacanza giusta al degno riposo e grazie innanzitutto per essere stato con noi pronto? sì sì dicevo grazie per essere stato con noi come anticipazione come Antre ah ok allora ci vediamo venerdì mi raccomando numerosi va bene grazie grazie Marco Vazzoni grazie a voi e lo ringraziamo sicuramente venerdì avremo anche oltre allo spettacolo il divertimento assicurato se questo è l'anticipo bene chiudiamo qui questa edizione del telegiornale occhio alla notizia buona serata a tutti voi con i nostri programmi arrivederci a domani se vorrete noi saremo qui puntuali alle 20 e 30 buona serata grazie a tutti